tutto il mondo tutto il mondo dice è finito è finito Picci perché 36-37 anni come torni con quella mazzata lì non tornerei mai sono andato a raccogliere le ciliegie e ringrazio chi mi ha preso a fare questo lavoro sono andato a fare le olive per continuare a fare la spesa ma no perché voglio vittimismo non voglio niente io no, sono forte io sopravviverò a tutto perché ho tanta forza ancora oggi no, mi sento forte e ho fatto il cameriere a Borghegnazia e mentre portavo i piatti e i tavoli credimi Andre dicevo devo tornare devo tornare devo tornare devo tornare devo far gol e ringrazio soprattutto i miei due figli Giulio e Nicola che le domeniche che non giocavo chiaramente vedevo le partite in stanza dicevano papà tu tornerai sei il più forte di tutti e loro sono stati la mia forza veramente popolo di youtube buonasera buongiorno non so a che ora guarderete questo video oggi torna OCV Talk con un ospite di eccezione forse l'unica persona caro Manfred che conosco che è persona e personaggio nella stessa identica persona lui non cambia mai signori e signori buonasera a Loco Picci buonasera a te grazie per l'invito buonasera mi sento un po' a casa sento un po' a casa la tua voce tutte le cronache sarà per il campo di calcio dietro il mio presidente a fianco quindi veramente grazie per l'invito sarà veramente un piacere partiamo un attimo dall'inizio ti volevo chiedere come nasce il piccolo Loco Picci quando ti innamori al calcio anni 85 pari siamo esatto esatto per gli amanti dei numeri appunto ho compiuto appena 39 anni il Picci giocatore si innamora a Bari perché nasce a Bari e quindi vive in profondità l'amore di una città verso il calcio noi abbiamo un pubblico a Bari fantastico facciamo 50-60 mila spettatori anche in Serie B e già a 7 anni mi prende il Bari nelle sue giovanili faccio tutta la trafina nel Bari perché il mio sogno è stato sempre quello di indossare la male del Bari sembravano spalancate le porte della prima squadra ma poi sono stato ceduto in prestito in Serie C in Lega Pro all'età dei 18 anni ma no perché poi l'esordio col Bari in realtà arriva anche se non è San Nicola arriva arriva allo stadio di Crotone chiaramente un sogno Coppa Italia Coppa Italia Crotone e Bari per me è un sogno con la maglia numero 44 me lo ricordo c'ho ancora la maglia prima una prima e ultima volta no perché chiaramente i ragazzini davano i numeri a caso ma a me andava bene tutto qualsiasi numero cioè quindi non l'avevi neanche scelto assolutamente senti Picci chi era l'attaccante titolare? noi davanti avevamo tanti attaccanti ma Jonathan Spinesi era pazzà com'è stato lasciare Bari? perché mi immagino che comunque alla fine quanti anni avevi? 20 anni? avevo 19 anni lasciare Bari inizialmente mentalmente è stato ma tu avevi già la compagna? avevo già la mia attuale compagna perché dei banchi di scuola che io ho preso la mia ragazza Angela l'ho conosciuta ai banchi di scuola cioè il cazzo Angela come quella di Checco Zalone non vorrei dire siamo 21 anni che siamo insieme chiaramente come tutte le coppie adesso sento pure Morata Alice e voi invece no però abbiamo resistito a tante crisi anche noi lì però non avevi ancora i figli arrivano dopo i figli arrivano dopo qua siamo al picci ventenne eri fidanzato e te la porti con te no no lei giustamente studiava perché studiava all'università però mi veniva sempre a trovare quindi possiamo dire che inizia la vera e propria carriera da calciatore come lavoro cioè diventa il lavoro esatto perché comunque iniziavo a prendere un mio stipendietto dove iniziavo a togliere i primi sfizi e io lì c'ho una domanda su questa cosa qua ma i calciatori lo stipendio che prendono è come una partita IVA quindi non so faccio un esempio 50.000 euro all'anno e te ne danno 50.000 dilazionati nei mesi come funziona la tredicesima ti spiego subito nei professionisti i mesi che tu vieni pagato regolarissimo sono 12 quindi tu vieni stipendiato per 12 mesi fino alla serie C fino alla Lega Pro quindi tutto quello che tu prendi è diviso in 12 mensilità mentre nelle categorie minori purtroppo sono dagli 8 ai 10 mesi dipende dalle accordi che vuol dire d'estate vai a fare il bagnino praticamente esatto devi trovarti qualcosa lo ho anche fatto quindi dagli 8 ai 10 che vuol dire c'è la società che ti pagano tutto perché come dice Andrea tu prendi un accordo totale per tutto l'anno fai un accordo totale della cifra e poi tu decidi di dilazionarlo in 8 9 10 mesi puoi farlo anche in 12 forse puoi farlo anche in 12 ma non ti conviene perché comunque cerchi tu chiaramente la cifra intera cerchi di prenderla il prima possibile quanto guadagna in media una forbice un giocatore diciamo professionista di 6-10 all'epoca tra l'altro tu hai fatto anche la C2 adesso non c'è più adesso l'hanno chiusa tutte in Lega Pro e dipende Andrea i discorsi qui variano io per esempio nei vari podcast sento tanti discorsi io conosco veramente realmente i stipendi che gira c'è da dire una roba che in Lega Pro chiaramente se tu paghi un giocatore 50.000 euro a una società costi quasi 100 mentre nelle categorie minore sotto la Lega Pro 50.000 euro mettiamo tra virgolette da quello che so io sono 50.000 euro 50 60 potrei potrei anche sbagliarmi parlavamo della Serie C però hai appena parlato del tuo arrivo in Serie B tu arrivi al Brescia tra l'altro il Brescia di Corioni ha acquistato squadrone Baggio Aghi Guardiola Toni Diamanti c'è chi ti ha voluto lì e poi soprattutto c'è il peso della maglia perché lì comunque forse è stato questo è uno degli aneddoti incredibili io avevo fatto l'anno di Martina Franca dove vincemmo il campionato in una maniera rocambolesca feci 24 gol capocannoniere di quella Serie D e stavo vedendo Studio Sport e non ci direste cosa scontata esatto stavo vedendo Studio Sport a un certo punto mi squillo il telefono e io rispondo pronto io ero molto intento a guardare Studio Sport molto concentrato sulle notizie perché mi piace seguire lo sport e mi dice ciao Picci sono il direttore sportivo del Brescia Jaconi siccome i miei amici di Bari che sono dei diciamo avete capito degli amici mi prendono sempre in giro siccome dico che sono il più forte allora mi facevano gli scherzi sono il direttore sportivo del Bayern Leverkusen sono il direttore sportivo del Borussia Dortmund lì chiudo subito il telefono in faccia perché penso con un'offesa sì anche con un'offesa non mi rompete i maroni e ho chiuso la seconda volta quando mi ha richiamato dice ma mi devi chiudere di nuovo il telefono in faccia ho sentito un po' quell'accento del nord vuoi vedere che non è mimuzzo vuoi vedere che è davvero il Brescia e quindi mi hanno detto ma hai firmato o no Martina io ho detto no direttore però doveri firmare questa settimana ma vuoi venire o no a Brescia vuoi venire a piedi domani sto là e andai il giorno dopo per una cifra veramente se ti dico la trattativa è incredibile io non avevo neanche il procuratore lui mi disse tu quanto prendi a Martina io dissi la vera cifra di quello che prendeva te la do io vuoi venire a Brescia vengo subito non mi interessa quanto devo prendere e ho fatto la scelta migliore della mia vita perché lo dico veramente con un pizzico di pelle d'oca era un sogno continuo quindi il mio sogno era fare l'esordio esordisco la Spezia adesso devo fare il primo gol il primo gol l'ho fatto Brescia-Crotone tu pensa che è stato il gol del 4-0 quindi un gol che Crotone non pareva le vaste chiaramente non contava niente abbiamo esultato tutto lo stadio tutta la squadra cioè i miei compagni erano con gli occhi Budel io lo puoi chiedere perché capivano quello che io stavo provando cioè era il sogno di un ragazzino avevo segnato in Serie B poi dopo quel gol volevo fare un gol importante un gol decisivo c'è vicino ai playoff c'è vicino ai playoff 2-1 al 95esimo sotto una pioggia incredibile mi sono tolto maglietta quasi i pantaloncini tutti che mi seguivano c'ho foto c'ho il video il telecronista che è impazzito tipo te e io che vado sotto la curva sotto la pioggia perché io ogni gol correvo sotto di loro perché anche fin dal riscaldamento gli davano dai bomber che devi entrare dai bomber che devi entrare veramente io anche se giocavo tre minuti lì pressavo anche le bandierine cercavo di dare anche in quei tre minuti quel contributo senti bomber una data ti dico 26 settembre 2018 il gol contro il Bari no? è stato anche un dibattito perché poi durante tutto appunto quel sogno che io speravo sempre di giocare al San Nicola arriva quella partita contro il Bari dove tutti i miei amici che poi chiaramente io sempre ho detto io posso giocare nel Bari poi quella cosa lì me la porto sempre anche al di fuori del campo tu all'epoca giocavi nel? stavo a Bitonto e quindi giochiamo contro il Bari tutti i miei amici Coppa Italia Coppa Italia non toccherai un pallone non toccherai un pallone non toccherai un pallone chiaramente mi prendevano in giro perché poi amano stimolarmi certo per sentirmi la mia risposta sia sul campo che fuori e feci un grande gol di testa all'incrocio assist di La Vopa assist di Vito La Vopa no assist di La Vopa vedi com'è piccolo il mondo assist di Vito La Vopa e gol di Pici quindi fu hai esultato? però no non hai esultato però non hai esultato non hai esultato però ero soddisfatto ma soddisfatto non per aver segnato contro il Bari perché io cioè tu quando ami troppo una donna la corteggi la vuoi portare a cena e magari tu non ci riesci chiaramente tu gli vuoi dimostrare qui sei andato con la sua migliore amica diciamo vuoi dimostrare che comunque ci potevi essere in quello stadio penso che quella sera comunque lo dimostrai allora adesso te la dico io una data 26 ottobre 2019 Vigor Trani contro Gallipoli è secondo me il plot twist della tua vita perché noi inteso come mondo di internet ti siamo venuti a conoscere da quel momento lì sto parlando ovviamente della storica tua rovesciata contro il Gallipoli contro il Gallipoli al 92esimo non basterebbero delle trasmissioni intere per quello che mi è accaduto per quello che io ho dentro in tutta la mia avventura calcistica in tutta la mia vita calcistica sicuramente sono pieno di difetti però una cosa concedetemela ho un amore forte sono un istintivo faccio quei due gol io giocavo in una squadra la Vigor Trani come è nominato dove il nostro presidente io arrivo lì perché non mi voleva nessuno quell'anno come mai non mi voleva nessuno perché scapitano degli anni dove magari ti vogliono meno persone accetto di sposare questa questa piazza qui Trani altra piazza che mi ha dato tantissimo serie eccellenza eccellenza dove una piazza anche a livello di calore quindi anche lì diciamo le tasse non sono più esistite sono rimborsi ma sai perché perché vengono chiamati rimborsi non prendi più uno stipendio quindi vengono chiamati rimborsi diciamo così e lì addirittura il presidente facciamoci due risate ma sono fatti veri ci sono dei testimoni a volte ci pagava in tanniche di benzina eh te ridi eh te ridi Domenico ma qua sono fatti veri è in tanniche d'olio o in tanniche d'olio allora ti faccio un esempio allora a parte che abbiamo l'olio di palagianello che ti abbiamo portato no veramente in tanniche d'olio quindi magari se io dovevo prendere duemila euro faccio un esempio lui mi dava mille euro me li dava e poi e poi mi diceva ma eh prendi 20 tanniche ma tanniche o buoni no le tanniche da noi sono lattine di olio lattine di olio contenitori di olio quindi io mi riempivo ma infatti dovevo recuperare poi come dovevo fare no e ringrazio tutti i vari ristoranti di Bari che mi hanno aiutato perché io che facevo te ridi ma sono fatti veri andavo in questi ristoranti chiaramente a prezzi scontati a rivendervi l'olio eh anche qui vabbè facciamo e facciamo finti niente immagino con fatture ovviamente scontri e fa vici scusi eh non lo so tagliatelo ma sono fatti veri insomma recuperavo così e quindi tu immagina no quella rabbia quella voglia di essere diciamo pagato in questa maniera ma me come tutti i miei compagni perché anche i miei compagni e tu pensa che in una squadra giovanissima stavamo secondo in classifica in quell'eccellenza dove non ci dava un centesimo nessuno ci davano già per retrocessi alla decima giornata che faccio quella doppietta quindi faccio quel bellissimo gol di rovesciata vado a fare questa intervista ci avevo un fuoco così dentro mai me lo scorderò ci avevo l'Angela di fronte a me tua moglie mia moglie quindi io faccio questa intervista parlavo a sprombattuto c'è la cosa bella che non l'hai fatta apposta ma stavo come un io lì ridiamo ma io stavo come un pazzo si sente anche dall'affanno che c'ho in quella intervista quindi dico sono il più forte di tutti sfido chiunque a dimostrare il contrario tanto avevo 34-35 anni non mi interessava più niente esco da quella intervista e arrivo in macchina l'Angela mi dice stavolta è davvero esagerato e io dico Angela ma tu hai capito come stiamo che veniamo pagacè dico tanto peggio di così ci sto venendo pagato in tanniche d'olio almeno almeno mi sono sfogato ragazzi buonissimo ottimo l'olio ottimo infatti a voi complimenti anche da tutti finisce lì io pensavo che era finita lì va bene a un certo punto il lunedì dopo il giorno dopo ecco quella poi è la data che cambia tutto io ero in un bar con i miei amici e si parlava del mio gol di rovesciata il mio telefono impazzisce arrivano notifiche di Instagram a getto continuo e io là mi dico faccio lo switch mentale mi dico è successo qualcosa cioè non posso avere oh mio dio ho combinato qualcosa vedo che Calciatori Brutti aveva messo le interviste messo la clip quindi anche grazie a Calciatori Brutti che comunque ha avuto l'espluano il momento poi di hype farmi conoscere tra l'altro in quel periodo lì secondo me era il momento prime di Calciatori Brutti come community assolutamente assolutamente non ti dico chiacchiere io sono stato per il mese di ottobre c'è scritto questo è qualcosa che non accadrà mai questo lo posso dire con certezza in qualsiasi era calcistica il calciatore più ricercato sul transfer market nel mese di ottobre cioè in pratica il mio nome era più visto di vari Mbappé Cristiano Ronaldo qualsiasi giocatore al mondo c'era Antonio Picci un giocatore dell'eccellenza della Vigor Plano quindi chiaramente i primi 5 su transfer market come ricerca motore di ricerca sono sempre loro Messi Cristiano Ronaldo Mbappé però c'è proprio l'articolo e i dati che lo confermano in quel mese di ottobre il giocatore è stata clamorosa quella è stata una cosa veramente clamorosa dopo quell'anno lì mentre eri a Trani nel momento prime della tua carriera però succede il fattaccio un anno e otto mesi di squalifica per la partita Picerno-Bitonto ti va di raccontarci come è andata che ogni tanto lo leggo nei commenti secondo me raccontare quello che mi è successo chiaramente ho pagato perché chiaramente tu immagina togliere due settimane a me di calcio figurati togliere due anni quello che ho passato io in tante cose non lo auguro neanche al mio peggior nemico però ripeto sono sempre uno che si assume le responsabilità di tutto la cosa che mi ha fatto più male oltre a tutto quello che io ho fatto alla mia famiglia ai miei figli che non mi hanno visto più al campo alla mia moglie è stato vedere la tristezza di un popolo quello di Bitonto quindi in pratica c'è stato abbiamo dato un pareggio all'ultima partita una squadra e non sto a giudicare qui le maniere le dinamiche abbiamo sbagliato abbiamo pagato ma ripeto la cosa più ho già chiesto scusa ma non basterà mai non basterà mai per l'errore che è stato commesso chiaramente uno a 35 anni e quindi il dolore non solo mio ma anche per quello che tu avevi recato a una piazza che ti ha idolatrato tutto il mondo tutto il mondo dice è finito è finito Picci perché 36 36 37 anni come torni con quella mazzata lì non tornerei mai sono andato a raccogliere le ciliegie e ringrazio chi mi ha preso a fare questo lavoro sono andato a fare le olive perché avevi una famiglia per continuare a fare la spesa ma no perché voglio vittimismo non voglio niente io no sono forte io sopravviverò a tutto perché c'ho tanta forza ancora oggi mi sento forte e mentre e ho fatto il cameriere a Borghegnazia e mentre portavo i tavoli e mentre portavo i piatti e i tavoli credimi Andre dicevo devo tornare devo tornare devo tornare devo tornare devo far gol devo far gol devo far gol e ringrazio soprattutto i miei due figli Giulio e Nicola che le domeniche che non giocavo chiaramente vedevo le partite in stanza dicevano papà tu tornerai e sei il più forte di tutti e loro sono stati la mia forza veramente in tutto in tutto io essendo anche io genitore ti capisco tante volte i bambini senza dire niente ma ripeto la cosa più 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 grossa è stato portare quel peso nei confronti volevo soffrire io a volte i miei compagni mi vogliono tutti bene anche a Bari anche nei ditori perché sanno poi come l'ho passata volevo io tutto il peso o ad altre persone vogliamo tutto il peso pur di non far soffrire altra gente o altre cose e niente chiaramente ci sarà chi giustamente mi criticherà ma io come avete visto mi prendo benissimo le critiche come mi prendo le logi io dico nella vita due sono le strade o vai e molli e la dai vinta a tutti oppure cerchi di combattere di ritagliarti ancora le sorrisi se io sono tornato a sorridere e lo devo anche comunque alla mia capabilità alla mia forza e anche quelle sultanze che tu vedi in gotte e anche tutta quella rabbia che ancora c'è dentro anche per queste sofferenze perché per me il gol è una liberazione Domenico lo sa io adesso vado a fare lamento nel tragitto sogno quando entra la palla domenica è così è una cosa che è un'ossessione è una cosa che ti porti dentro e quando poi finalmente va dentro quella palla è la gioia che tutti liberi ti volevo chiedere due robe su quel periodo lì se ti hanno lasciato solo i tuoi amici i tuoi compagni di squadra così e quanto quanto ci hai messo per reagire un mese l'ho avuto di blackout totale mi è successo anche a livello familiare qualcosa di non carino non lo nego non sto qua a specificare quindi se ti succede qualcosa a livello familiare figuriamoci a livello di amici ci sono stati quelli che non mi hanno mai abbandonato anche con piccoli gesti che ti facevano sentire importante vivo e quindi di questo ne sarò grato a vita e sono gli amici con cui ancora mi sento tutti i giorni è anche un messaggio che vorrei mandare a tutti coloro che magari hanno difficoltà di non mollare perché dopo la tempesta ci può essere sempre il sole ed è vero ed è vero poi allora da questo momento brutto come hai detto tu si esce anche da questo momento cercando di contare i giorni che poi mancano magari al tuo rientro perché poi per quanto mi riguarda la medicina più grande era il campo era il gol e quindi il mio sogno era fare almeno un altro gol almeno un'altra volta sentire quell'emozione esatto sono tornato sentire quell'emozione da che squadra hai ripreso? ho ripreso da Rossietto degli Abruzzi un paese bellissimo sul mare tra l'altro da lì ho iniziato subito ma conoscevi la persona che ti ha era un amico no 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 subito quando è finita la squalifica ho avuto subito tante proposte perché molti hanno creduto che nonostante i miei due anni di inattività io potessi veramente dare ancora tanto ti sei allenato in quegli anni sì sì mi sono allenato chiaramente non benissimo perché comunque lavoravo come avevo detto però mi ho ripreso subito ti allenavi da solo? mi allenavo da solo la domanda la cosa che aveva detto all'Angelo ho detto non so se ce la farò perché fisicamente mi sentivo che non ero più come prima ogni piccolo problema avevo subito dei problemini fisici però mi prende il Martina Franca per un mese perché mancava l'ultimo mese per fare solo i playoff quindi il Martina Franca mi riprende vedi che bella storia mi riprende in eccellenza per fare l'ultimo mese le ultime partite per andare in quattro partite tre partite per andare in serie D arrivo mi alleno quell'ultimo mese con Martina chiaramente una voglia matta loro un amore spassionato subito grande piazza grande tifo per tornare per farle vincere quel campionato mi faccio male al ginocchio perché appunto pronti via quando non ti alleni per due anni e subito riprendi il tamburo battente chiaramente rischi di incombare in infortuni io che in infortuni non ho mai avuti il presidente mi dice aspetta ad operarti gioca anche col ginocchio così incredibile presidente Favia no no era un altro era la Carbonara con Soldano tra tutti i fatti che anche i tifosi martinesi sanno non mi opero vado in campo nell'ultima mezza senza un ginocchio senza zoppo io entro a zoppo tante che i miei amici dicono ma guarda come stai stai zoppo non mi interessa devo mettere voglio mettere il timbro il marchio su questa promozione che noi faremo anche i miei compagni venivano trascinati da questa voglia che avevo e quindi nella partita in Sicilia entro l'ultima mezz'ora ci qualifichiamo andiamo in finale insomma e vinciamo quel campionato e quindi porto il Martina in Serie D e poi riparto dal Rossetto delle Abruzzi dove da lì mi metto a posto fisicamente in quell'estate per bene faccio una bella preparazione e non mi sono mai più fermato fatto 14 gol a Rossetto in 5 mesi 18 a Matera poi perché poi sono andato a Matera in 3 mesi 18 in 3 mesi è illegale è incredibile lei a Matera ho fatto veramente gli sfracelli a 36 anni l'anno scorso esatto poi sono andato dopo Matera sono andato all'Odigiani capo canoniere a 38 anni in eccellenza e poi prima di tutte queste chiamate chiaramente arriva la chiamata della fucina qua ci fermiamo un attimo facciamo un cooling break ci portano un po' d'acqua e poi dopo ripartiamo con la roba della fucina e invece di squadre normali che squadra difite no siccome ho tanti estimatori non lo dico ancora poi incominciano ad odiarmi quindi è una domanda sicuramente sicuramente la squadra della mia città è il Bari però tengo la squadra con cui gioco che adesso è a 360 gradi la fucina calcio 11 e gotti e invece qualche attaccante che ti ispiravi da piccolo beh sicuramente l'amore più grande e spassionato anche se non era un tifoso della Fiorentina e poi della Roma è sicuramente Gabriele Omar Battistuta secondo me sì il numero 9 per eccezione era lui perché la rabbia la determinazione con cui tirava Gabriele era incredibile Battistuta faceva una cosa gol cioè tipo Ronaldo il fenomeno saltava numeri no Gabriele era veramente il vero numero 9 punto una cosa incredibile ma poi mi piaceva quella quella vemenza quella grinta che aveva quando tirava in porta sparava a tutti esultava una cosa devastante da grande grande trasporto e mi sono innamorato appunto di come attaccante diventando da piccolo attaccante vedevo le gesta proprio di di gambe invece se non avessi fatto il calciatore cosa ti sarebbe piaciuto fare oppure capito proprio dici non calcio cameriere no no mi sarebbe sicuramente mi piace parlare no mi piace ridere mi piace scherzare quindi sicuramente ho il motivatore sicuramente ma quello puoi fare ancora questo lo posso fare ancora ma sai chi oppure appunto raccontare tutto quello che mi succede quindi magari anche il comico no perché tanti lo dicono bellissimo perché no perché no fare un mio spettacolo personale dove racconto tutto quello che mi è successo esce fuori della roba chi è il pitch della serie A beh mi farei un complimento troppo grande perché comunque stimo tantissimo stimo tantissimo Lautaro Martinez è veramente un attaccante è un attaccante completo però penso di avere tante cose in meno sai che invece secondo me caratterialmente ti dico Dusan Blauvic no Dusan mi assomiglia più come caratteristica però se mi dici il più completo poi Dusan è mancino a differenza tua sì però vuole tirare punizioni c'è quella roba lì c'è un po' spumantino Dusan ce l'ha ci conosciamo anche con Dusan ah sì però sei molto amico anche con Luca se non mi ricordo male con Luca con Andrea Petagna non posso fare tutti noi facciamo dire sono un sacco di giocatori serie A che ci seguono no che ci seguono la cucina finito il momento culin break allora torniamo alla chiamata della cucina giù è giugno cos'è 22 era proprio il momento del mio rientro no quindi cercare di fare tutto tutto insieme no giugno 23 perdonate arriva questa chiamata a una settimana dall'inizio della GOT quindi veramente attaccato l'abbiamo organizzata così e io mi trovavo a Mirabilandia con i miei due figli e mia moglie lui ride perché sei fatti no chiaramente ero stato lì non un giorno non due ma sei sette giorni perché comunque i bambini si vengono a sfrenare era pure il mio regalo per mia figlia aveva fatto sette giorni a Mirabilandia che fai ha fatto la comunione io guarda dopo due giorni ho resaurito però loro gli piaceva quindi siamo stati lì siamo andati anche a quant'hai speso sette giorni a Mirabilandia ci arrivo mi ero speso tutto mi ero speso quasi tutto avevo i soldi per tornare non te lo nego perché poi non lavoravo da due anni a livello calcistico no ma io sono stato con mia figlia tre o quattro anni fa ho speso ho speso quasi tutto quindi avevo i soldi per tornare a Bari tra autostrada e benzina mi chiama Domenico mi dice Bomber sabato era giovedì quindi due giorni della gotta lui qui con una naturalezza tu lo conosci no Bomber vedi che sabato devi venire a Milano c'è un grosso torneo chiaramente io non sapevo niente di questa cosa che si stava creando la mia indole secondo te che mi diceva senza sapere neanche come tornare da Milano in un momento di disperazione totale economica e psicologica chiaramente ho detto Antonio vai ne parlo con l'Angela Antonio vai ne parlo con l'Angela e con mia moglie e con mia madre che chiaramente dicono torna a te poi mi immagino la tua mamma quando hai detto che devi andare a fare un torneo su internet subito mi dici torna subito a Bari non esiste torna senti a me tu dicevi questo è il torneo della rinascita questo è il torneo che può essere che può succedere qualcosa allora ho detto la mamma ho detto no voglio andare andiamo neanche la mia ragazza voleva i tuoi figli i tuoi figli no sempre mi accompagnano in qualsiasi mia scelta chiamo Domenico e dico Domenico ascoltami io non so qua come siete strutturati però mi devi mandare a me 100 euro se no io non arrivo a Bari poi a ritorno non ce la faccio perché adesso poi dovevo fare Ravenna-Milano e poi Milano scendere a Bari me li manda su posta B e vengo a fare questo torneo lì e poi da lì poi dicono che non investo e poi da lì esatto e poi da lì c'è stato no perché quella era la prima maratona della gotta la prima 20-40 ore la prima partita della gotta è stata la nostra il gol da centrocampo e redlock ah contro i redlock tra l'altro tre gol di cui uno da centrocampo uno che spaccai quasi da traversa cioè aver perso contro i redlock 5-4 che erano i campioni da sempre con il Faina in porta penso che sia uno dei più grandi miracoli sportivi sì di redlock di Bangal con Bangal i redlock di Bangal quindi facciamo subito una partita tostizia poi ricordo un caldo incredibile quindi fu una bella soddisfazione e da lì poi è scoppiato anche il Locopici in gotta e ti ringrazio da lì tu non ti chiamavi Locopici no mai mai e poi mi è usato questo soprannome ma sai per come è nato il Locopici perché noi giocavamo sempre a FIFA a Pro Club e lui aveva il personaggino spiegavo questa è la domanda che ti voglio fare perché te la faccio io una domanda lui aveva il personaggino attaccante che non passava mai agli altri no ma io proprio ho solo l'obiettivo di segnare per dire tutto merito mio perfetto e allora mi rappresento in pieno e allora dopo ho detto quando ho visto te come giocavo ho detto il Locopici nella realtà perché io non sono bravo come te a giocare a calcio è esattamente Pici e allora visto che io comunque simpatizzo Fucina da lì ho preso la palla al bar e poi secondo me si lega anche molto bene oltre che alla tua persona anche al tuo nome perché il Locopici è come se fosse è bello da sentire è bello da sentire è prefisso cazzante sentirlo dai bambini che ringrazio dai ragazzi che mandano un sacco anche di storie taggate con il Locopici con queste soltante è un'emozione incredibile si ritorna virali si ritorna virali si ritorna piano piano per l'ennesima volta ma tu avevi un soprannome prima del Locopici Bomber a me mi chiamano sempre da sempre Bomber chiaramente però adesso in mezzo alla strada mi chiamano Bomber Loco quindi adesso sono questi i miei due soprannomi Bomber e Loco quindi oltre però alla Gotboi dopo tutti si è aperto ad altri progetti anche calcistici su internet e non solo perché sia la Fucina poi con diciamo il calcio in eccellenza sia i Seven Sins la Centotiri con ZAV la Nazionale Creators ti volevo chiedere diciamo qual è quello che ti è piaciuto di più tutti tutti molto emozionanti ti dico una roba è stata quella dei l'esperienza più bella è stata sicuramente la prima vittoria nella storia della Nazionale Creators quindi tu pensa che voglia avevo io perché era la mia prima apparizione Nazionale Creators col commento tuo e di Ema contro la Spagna contro la Spagna e mi marcava un certo Juan Fran che tra l'altro sei pur in nervosina sarebbe stata se no la terza sconfitta di fila quindi ci tenevo tantissimo in una località stupenda in un posto stupendo Berlino in un'arena bellissima vincere 8 a 5 fare 5 gol contro un difensore contro Juan Fran è stata una soddisfazione una serata bellissima ma perché sei incazzato Juan Fran lì? mi sa che andavo troppo forte stavo bene stavo bene però ripeto veramente mi inchino dinanzi a un campione come lui perché è stata un'emozione per me incredibile essere marcato da un difensore che ha vinto un europeo ha fatto una finale di Champions League che ha giocato per tanti anni nella nazionale spagnola e ha marcato giocatori veri e non me quindi veramente un'emozione grandissima e una soddisfazione anche personale anche se ripeto in quella manifestazione aver fatto così bene e poi vedere il sorriso anche aver condiviso perché la cosa bella è condividere quell'emozione col Mr. Diddy con Fratino con tutti i miei compagni di viaggio Berlini Dose che poi al giorno d'oggi a Milano esatto hai legato in particolar modo? con tutti io sono contento di essermi trasferito a Milano perché poi ho trovato in voi una seconda famiglia mi avete accettato con tutti i miei difetti con tutte le mie difficoltà e quindi mi sento come non coccolato e invece la frase quella per eccellenza per dispersione come ti è venuto in mente? perché noi all'inizio abbiamo anche pensato che tu avessi sbagliato termine per me è un errore tu volevi dire per distaccoli no no per dispersione vuoi saperlo perché? è perché comunque quando vincono i cavalli no? vincono per dispersione sono troppo forti per distacco per dispersione sono troppo più forti di voi ma si dice così nel gergo equino esatto quando un cavallo vince è troppo avanti per dispersione per distacco e io ho voluto dire a tutti dopo un po' di critiche dopo quel grande golle sono troppo più avanti rispetto a voi quindi è stata una provocazione del genere e adesso a Milano per lo meno in tutti i locali per dispersione si usa sempre questa frase allora Bomber si dice che il calciatore ha una carriera fino ai 40 41 non ti voglio togliere anni però dopo bisogna pensare a qualcosa cioè tu stai già pensando a qualcos'altro beh sicuramente il mio desiderio sarebbe quello di continuare col calcio no? sto già studiando per poter fare l'allenatore è un ruolo che mi piace perché mi piace stare sul campo o no poi con i ragazzi ma sei andato a Coverciano? andrò a Coverciano prenderò il patentino e poi siccome penso di avere ancora 2-3 anni importanti da fare Domenico ride quindi mi devi sopportare almeno 2-3 anni in got quindi dai un giorno mi piacerebbe perché no provare provare perlomeno provare a fare l'allenatore sì tra l'altro quando hai iniziato tu la tua carriera nel calcio sapevi che sarebbe arrivato questo momento probabilmente perché c'è chiunque fa calcio poi raga sa che fa un lavoro che appunto dura 20 anni se ti va bene e poi a 40 anni ti devi ritrovare e se non dovessi trovare spazio nel mondo del calcio ti piacerebbe qualcos'altro l'altro andrei io non ho avuto calcio giocato soprattutto per i periodi che ho appena raccontato penso di non aver paura più di niente no mi ho passato veramente di tutto e quindi mi adatto veramente a tutto se un giorno dovrò andare a fare anche i lavori più umili per me non ci sarà nessun tipo di problema e quando li ho fatti li ho fatti sempre col sorriso con la massima gioia con la massima abnegazione e quindi non mi pongo il problema non ci penso perché mi sento ancora bene e quindi qualsiasi cosa accadrà l'importante la cosa più bella è stare magari con due amici come voi a raccontarsi di queste robe qui delle nostre robe invece volevo concludere con un'idea che io e Manfra abbiamo avuto per questo programma qua ed è quella proprio di creare un nuovo regolamento il calcio sta cambiando io vorrei portare a gravina un piano ok con delle riforme o a chi ci sarà al posto suo quando andremo noi come idea sosteniamo da una vita il fatto che andrebbe ridotta l'aria di rigore perché è troppo grande no è vero cioè oggettivamente se la restringe un attimo secondo me anche i rigori il portiere che può uscire con le mani il portiere può uscire in maniera diversa ha una serie di vantaggi sì però oggettivamente ti capita delle volte che ti danno un rigore in un angolo che non è mai azione da gol per me sono tutti rigori perché voglio tirare da qualsiasi posizione però a te c'è una quale sarebbe la tua riforma sul calcio una regola che cambieresti che dici proprio io questa qua o qualcosa che introdurresti che non c'è no no io l'unica cosa che eviterei secondo me proporrei ancora più cambi perché aumentiamo i cambi perché ah ci sono cinque so cinque ma anche i sette che hanno in penchina sette sette cambi perché con tutte queste partite di Champions la domenica sera giocano viaggiano arrivano il lunedì e il martedì giocano in Champions non è facile sette cambi sette cambi perfetto allora grazie mille loco di essere stato a noi vedo una maglia però ci hai portato un regalo? ragazzi se sono arrivato a questa maglia che appunto vi mostro con orgoglio è soprattutto merito vostro quindi siccome questa è la maglia tra l'altro ha quel numero di Cassano la maglia dei cinque gol contro la Spagna quindi allora loco firmacela un attimo per favore la maglietta che ci tengo tra l'altro il numero di Cassano come mai questa scelta? beh allora il mio numero d'eccellenza sempre il mio numero nove chiaramente ero occupato da Crispo da Simone che è un grandissimo ragazzo con collocazione per salutare e quindi chiaramente portando rispetto per chi c'era prima anche perché Simone la porta benissimo quella maglia ho scelto il doppio nove appunto il 99 di Antonio Cassano ma possiamo dire ai livelli primaverili quello che abbiamo visto noi a Bari di Cassano perché noi andavamo apposta a vedere la primavera del Bari perché dicevano tutti no c'è questo che è una cosa assurda fenomeno Andrea mi prenderò un po' di critiche ma è stato uno dei giocatori italiani più forti nella storia troppo troppo forte al di là di quello che adesso magari si fa un po' di aree per le cose che dice ma io l'ho visto a livello tecnico a livello di qualità che aveva era qualcosa di clamoroso non aveva rivali tu andavi allo stadio andavi allo stadio in quel gol con l'Inter contro l'Inter ero a fare racattapalle quindi immagina che emozione quello che lui fa di tacco è qualcosa di clamoroso quel gol ragazzi è inutile per un barese è qualcosa di clamoroso perché è un gol assurdo fatto in mezzo a due campioni del mondo al novantesimo che era Laurent Blanc e Panucci e Panucci ragazzi ragazzi Cassano parlo a livello tecnico clamoroso ma poi se arrivi a giocare ripeto con gente come Zidane Ronaldo il fenomeno con quella testa lì cioè vuol dire che sei oltre sei oltre sei oltre e penso che il Cassano più bello più incredibile quello vero ecco se ti dico l'ho visto proprio al primo anno della Roma quando giocava con Totti penso che quella coppia sia stata una delle coppie più a livello calcistico più belle da vedere proprio a livello di è un orgasmo un orgasmo totale totale esatto e invece quando lo vedi online come podcaster come lo trovi invece Cassano? vabbè come tutti magari in alcune cose ti potrà avere d'accordo in altre no però diciamo che è sempre molto simpatico no? sì genuino genuino quindi è un altro istintivo Antonio sicuramente è un altro istintivo quindi dai divertente diciamo così Anto ti ringrazio spero che vi sia piaciuta questa intervista per me è stata bellissima abbiamo scoperto un altro Antonio voi siete bravissimi perché vi incalzate bene quindi grazie a voi grazie che ci hai dato l'opportunità di entrare dentro di te diciamo grazie Andre grazie Domi grazie a voi alla prossima